Sì Presidente, grazie, spero e credo anche molto meno perché in parte ho anticipato quello che può essere il contenuto dell'ordine del giorno, ossia quello di avviare, si impegna la sindaca e la giunta, ma per giunta intendo sia l'assessorato sociale, l'assessorato alla scuola e l'assessorato al personale, quindi due assessori diciamo competenti per materia, ad avviare un percorso condiviso con le parti sociali che riguardi proprio le attuali modalità di erogazione dei servizi rivolte agli allievi con disabilità. Attimo solo consigliera, prego. Quindi ecco avviare o riavviare nel caso in cui fosse stato interrotto un percorso che vada in questa direzione, dopodiché è importante rilevare il fabbisogno di unità di personale nel profilo professionale di cui stiamo parlando e indicare anche le modalità di reperimento delle stesse e dei requisiti di accesso, definire mansioni responsabilitari conducibili al profilo professionale in argomento e indicare il conseguente inquadramento contrattuale in coerenza con gli standard di qualificazione professionale approvati anche dalla Regione Lazio, perché dobbiamo tenere conto anche delle indicazioni che ci provengono dalla Regione Lazio e quindi eventualmente aprire anche un tavolo con la Regione e quindi a predisporre anche gli atti per le conseguenti e necessarie modifiche di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Capitolina numero 9 del 28 gennaio 2020 che concerne la determinazione della dotazione organica complessiva e per singolo profilo professionale del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale. Quindi avviare, dicevo, un percorso costruttivo che ci porti a definire un vero piano di internalizzazione. Grazie.